A Marina di Gioiosa Ionica un incidente ha scosso la quiete di una giornata apparentemente ordinaria. Una macchina di cilindrata 50 è andata a fuoco generando preoccupazione tra i incidenti e richiedendo un intervento tempestivo da parte delle forze e l'ordine. Il veicolo guidato da un giovane proveniente da Siderno stava attraversando il corso principale quando il conducente ha notato scintille provenienti dal vano motore. La sua pronta reazione è stata fondamentale accorgendosi del fumo successivo approntamente accostato nella traversa che conduce al lungomare di Marina di Gioiosa bloccando il veicolo e mettendosi in salvo. Incredibilmente in pochi minuti l'auto è stata avvolta completamente dalle fiamme creando uno spettacolo impressionante richiedendo l'intervento immediato delle autorità competenti. Sul luogo sono giunti i carabinieri della locale stazione, i vigi del fuoco del distaccamento di Siderno e la polizia locale. Le cause dell'incendio sono attualmente oggetto di accertamento da parte delle autorità con l'obiettivo di comprendere le circostanze che hanno portato a questo pericoloso episodio esaminando attentamente le prove e ascoltando il racconto del giovane conducente per ricostruire con precisione la dinamica dell'incidente. Fortunatamente non sono registrati feriti o danni a persone durante l'incidente. Tuttavia l'impatto visivo e l'efficace risposta delle forze dell'ordine hanno catturato l'attenzione della comunità locale. I residenti si interrogano ora sulla sicurezza di queste automobiline e sulla necessità di misure preventive per evitare incidenti simili in futuro.